quanto devo? so 5 euro vorrei dei pinoli e non otteniamo i pinoli come non avete i pinoli? e non c'è nebo lì siamo senza e io come lo faccio il pesto? oh pesto e ma se ti dico che siamo senza siete senza non otteniamo i pinoli noi altri a ogni modo se vuoi fare il pesto mettici le noci viene buono uguale ti sembra uno scogliattolo? oh ben lì non c'è lì non c'è lì l'odio l'introterra sempre così non avete mai un cazzo ma se non c'è lì senti vecchio ti taglio i coglioni me li faccio in fricasse magari ce li ho guardo un attimo basilico ora che ci penso guardi avete meno il basilico? c'è questo pronto dalla Buitoni non la voglio quella merda lo sai che con il pesto non c'entra un cazzo nella pubblicità della Buitoni col pesto ci connescono i ravioli cosa? fanno i ravioli col pesto hai mai visto i ravioli col pesto? no ma se a uno ci piace i ravioli col pesto per me non ce n'è problemi il problema c'è un giorno fai il pesto con le noci poi fai il pesto con i ravioli e lo sai cosa succede dopo? la volta dopo? non so fa la focaccia al formaggio con la precisione no finisci a letto con un tuo parente oh bella toglie mancia e due trenette le avete? troffie non so qualcosa no no certo non c'è mai senti io me ne vado a Rimini almeno lì la piadina ce l'hanno stai bene vecchio.